...su questa mostra, firmato Davide Bennato, professor Bennato. La 79esima mostra del cinema di Venezia, quella di quest'anno, vista da Catania, è piuttosto interessante. Se volessimo utilizzare appunto i termini propri della rappresentazione cinematografica, se noi facessimo una panoramica, ci sono un sacco di pellicole che raccontano praticamente la fine di questo nostro mondo, lavorando sui dettagli, lavorando sulle persone che non sono completamente integrate nella società, le fabbie disfunzionali, i cannibali, le persone oversize. Quindi c'è tutto un universo di un mondo che sta comunque in crisi o che sta arrivando ad una crisi. Questo quanto riguarda la panoramica generale dell'immagine, dell'immaginario che viene ad essere veicolato in questo, diciamo così, in questo periodo della mostra del cinema. Se noi invece vogliamo lavorare un po' più di dettaglio, ed è una cosa più che mi riguarda personalmente, per le mie passioni, sicuramente c'è un'attenzione alla dimensione anche del fantastico, anche la dimensione della narrazione che va al di là di quello che vediamo, ma che può essere anche traslata in una situazione fantastica o comunque immaginifica. Penso appunto a tutti i vari personaggi, alle varie particolarità che molte delle pellicole hanno rappresentato. E chiudiamo questa puntata.